Tra oggi e domani concluderemo il lavoro e giovedì faremo il nostro ufficio di presidenza. La democrazia è un esercizio faticoso, alcuni hanno una certa refrattarietà, anche qualcuno dentro il popolo della libertà, ma io vado avanti, riusciremo nell'intento e per quanto faticosa sia la democrazia è l'unico modo per rifondare il centro-destra e rilanciare i nostri valori e i nostri ideali perché senza di noi la sinistra vincerà sempre in Italia. Solo noi possiamo fermare questa sinistra, dare un'argine contro una deriva che non farà bene all'Italia e crediamo davvero di riuscirci.